Oggi torniamo a parlare di nuove missioni di titoli di Stato. Ci concentreremo nello specifico nell'emissione del bot marzo 2025, che il MEF farà tra qualche giorno alla fine di settembre 2024. Quando rende questo bot? Non si sa ancora, ma lo stimeremo tra qualche minuto. Che cosa ne penso? Lo inseriscono all'interno del mio portafoglio. Mettetevi comodi, ve lo dico subito dopo la sigla. Io sono Luca e questo è Fratelli in Finanza. Come sempre nella prima parte del titolo analizzeremo tutte le caratteristiche di questo bot. Successivamente ci sposteremo su Excel per fare qualche calcolo con le mani, come tanto ci piace fare. E terrò in considerazione tutte le commissioni possibili e immaginabili, quindi vi darò un numero fisso alla fine, un numero super netto. Vi ricordo come sempre che il foglio Excel è possibile scaricarlo qui sotto in descrizione per una sola settimana, quindi correte a farlo se volete fare qualche simulazione da voi. Infine vi dirò che cosa ne penso, se lo acquisterei o no. Partiamo subito, nuove missioni del bot. Marzo 2025. In questo caso è un bot a 6 mesi. Precedentemente abbiamo analizzato i bot che sono stati emessi nei mesi scorsi con scadenza a 12 mesi, scadenza annuale. Questa è una scadenza di mezzata. Entrerà nel mercato secondario, segnatevi bene queste date, il 30 settembre 2024 e scadrà il 31 marzo 2025. Sino a giorno 25 settembre sarà possibile ordinarlo in collocamento. Come? Andando in banca, presso il vostro on-banking, presso il vostro broker. Nel corso di altri video, nei commenti, diciamo, tanti di voi mi hanno detto ma il mio broker, questo determinato broker lo fa o meno? Molti di loro non lo fanno. Le principali banche italiane lo fanno, post italiane lo fa. Quindi chiedete al vostro broker o intermediario finanziario, la vostra banca, se lo fa o meno, per tempo. Se lo fanno benissimo, se non lo fanno vi dovrete rivolgere a qualcun altro. Entro il 25 potete appunto decidere di piazzare un ordine in collocamento. L'asta, perché appunto per i bot abbiamo un'asta e non sappiamo il prezzo al quale noi compreremo questo bot. Sì, noi possiamo dire alla banca, io lo vorrei a questo prezzo, ma la banca ha solo tre prezzi che può utilizzare nell'asta. Quindi secondo voi tiene in considerazione il mio prezzo per magari 1.000 o 2.000 euro? Assolutamente no. Utilizzerà magari il prezzo medio che chiederanno i clienti e infine acquisterà in asta questi bot per noi. Successivamente entreranno, come vi dicevo, nel mercato secondario il 30 settembre. Quindi diciamo, queste sono le date fondamentali. 25 settembre per chi di voi lo vuole acquistare nel mercato primario in collocamento. Se no, a partire dal 30 settembre sarà possibile scambiarlo sul mercato secondario MOT. Avrete il codice ISIN qui sotto in descrizione e sul foglio Excel. L'ho già trovato, quindi tramite questo codice sicuramente lo potrete ordinare, ripeto, in banca nel vostro intermediario, se lo fa, senza nessuna problematica. E come tutti gli altri bot, il MEF appunto deve andare a sostituire i bot che scadono. Quindi puntualmente ogni mese ci sono dei nuovi bot che vengono emessi. Qua parliamo di 7 miliardi per quanto riguarda l'offerta da parte del MEF. Tassazione agevolata come quella di tutti gli altri bot, 12,5%, non ci sono cedole. Pagliamo il nostro bot a una cifra minore di 100, lo andremo ad incassare appunto alla fine di marzo a 100 e quella differenza sarà il rendimento che noi otteniamo. Dobbiamo andare in conto delle tasse, delle commissioni, ma lo facciamo sul foglio Excel. Credo di avervi detto proprio tutto, quindi direi che è ora di passare su Excel. Aspettate, iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto. Non vi costa nulla, ma per me è fondamentale per continuare a portare contenuti di qualità per voi. Grazie come sempre in anticipo. Iniziamo come sempre ad osservare il nostro foglio Excel dal titolo. 8 marzo 2025. Qua non c'è fantasia, non ci possiamo sbagliare. Quali sono i flussi di cassa? Immagino di comprarlo in emissione, lo vado ad ordinare presso la mia banca oggi o al massimo domani. E che cosa succederà? In regolamento, la data di regolamento è appunto il 30 settembre, avrò un flusso di cassa passivo. Immagino di investire 50, ma potrei fare tranquillamente 100.000 euro, diciamo, sulla cella gialla, potete inserire la cifra che volete. Facciamolo su 100.000, così da avere numeri un po' più grandi. Qual è il mio flusso lordo? Appunto acquisto una determinata quantità di bot, l'otto minimo 1.000 euro, ho dimenticato a dirlo. Ma è come tutte le emissioni dei titoli di Stato. Quindi, diciamo, si possono investire anche piccole cifre. Io ho immaginato 98,45. Che cos'è questo? Il prezzo di emissione. Quel prezzo che vi dicevo sotto 100. Qui immagino di acquistare il mio bot. Come ho fatto a stabilirlo? Ho la bacchetta magica, no. Ho semplicemente osservato le emissioni precedenti e i bot che scadono attorno a quella data, febbraio-marzo 2025. Ed entrambi hanno una quota, oggi, che si aggira tra i 98,50 e 98,40. Quindi, cosa ho immaginato? Che il mio bot stia proprio lì. I prezzi che ci sono sono più verso il 98,50, oggi, quando registro il video. Quindi immagino di acquistarlo a qualcosina meno. In emissione, magari, il MEF ci regala qualcosina. Quindi, 98,45. E che significa 98,45? Significa che poi, a scadenza, a marzo, otterrò appunto i miei 100.000 euro. Questo lo eliminiamo perché ci servirà nel prossimo foglio. Significa guadagnare 1.550 euro l'ordine. Che annetti diventano 1.356. Conto della serva. Ma il rendimento annuale è pari al 13,8%. Il netto 2,78. Quindi un rendimento interessante, assolutamente in linea con quelli presenti sul mercato. La tendenza per le ultime obbligazioni, appunto per gli ultimi doli di stato, è stata quella di dare sempre un qualcosina in meno. Quindi magari, diciamo, ragionando insieme al corso del video, è più plausibile ottenere anche un 98, un 98, scusate, e 50 magari. Non e 40. 98 e 50. Quindi ottenere un rendimento l'ordine del 3,8% annuale. Andiamo a parlare dei flussi al nettissimo. La cosa più interessante del video. Ed ecco qua, appunto, la nostra tabella di commissioni. Il nostro bot ha una durata compresa tra i 140 e i 270 giorni. Quindi la commissione massima che l'intermediario ci può chiedere quando lo andiamo ad acquistare è lo 0,10%. Quindi in questo caso 100€ al massimo. Ancora, imposto di bollo. C'è qualcuno di voi con cui diciamo discussione e commenti riguardo l'imposto di bollo? Ho ricontrollato. L'imposto di bollo si calcola sul valore annuale. Quanti asset finanziari deteniamo alla fine dell'anno? Ma viene decurtata poi periodicamente. Se io detengo un asset per due mesi, la pago per due mesi. La detengo per sei mesi, lo pago per sei mesi. Indipendentemente, la pago magari a dicembre, viene calcolata alla fine di ogni anno. E la banca se la trattiene trimestralmente di solito. La calcoliamo per il periodo di detenzione del nostro strumento. Quindi se immagino di comprare questo botta a settembre, banalmente avrò un'imposto di bollo per ottobre, novembre, dicembre. Per gli ultimi tre mesi dell'anno. Quindi 92 giorni su 365. E una per il primo trimestre dell'anno successivo. Quindi lo 0,20 dell'ammontare investito. Rispettivamente 50,41€ e 48,90€. Che normalmente si vanno a trattenere tutte le banche che fanno da sostituto d'imposta per noi. Infine andrò ad ottenere i miei 100.000€ finali. Quindi come cambia il mio rendimento? Il mio conto della serva, il netto, da quando era? 1.312€ va a 1.600€. Rendimento lordo 2,77%. Rendimento netto 2,06€. Come vi dicevo, l'ISING lo troverete in descrizione qua, se siete interessati ad acquistare questo prodotto. Siamo giunti alla fatidica domanda. Che cosa ne penso? Prima di rispondere a questa domanda, come sempre facciamo un confronto. Tra cosa? Il nostro bot è un BTP con una scadenza simile. Ne ho trovato uno con scadenza 28 marzo 2025. Quindi tre giorni prima della scadenza naturale del nostro bot. Quanto rende? 2,74% netto. Il nostro bot, facendo appunto le dovute proporzioni, facendo le dovute sema, tra il 2,65 e 2,75. Quindi siamo là, può cambiare qualche punto base. Siamo in linea con gli altri strumenti che sono presenti sul mercato. Non potrebbe essere altrimenti. Io, Luca, lo compro o no? Personalmente no. Perché diciamo, ho già un portafoglio, ho già un portafoglio obbligazionario all'interno appunto del mio portafoglio e non voglio muovere nessuna posizione. Ma sicuramente, se avessi della liquidità che non mi serve per sei mesi, un anno, un anno e mezzo, sicuramente tenere in considerazione un bot è una delle possibilità più interessanti. Perché? Perché è molto semplice. Basta appunto ordinarlo online, andare in banca, lo possiamo andare ad acquistare, detenerlo sei mesi, con il rischio emittente Italia, che è un rischio emittente controllabile. Italia Rating Creditizio BBB fa parte della prima categoria, le investment grade. Quindi assolutamente sì, diciamo, non c'è un rischio particolare. Investire in bot è una soluzione nel breve, brevissimo termine, assolutamente di tutto rispetto. Se vogliamo guardare un orizzonte temporale, un attimino più lungo abbiamo i BTP, oppure se vogliamo più rendimento, vogliamo investire con una strategia più complicata, allora ci sono i mercati finanziari con ETF, certifiche, insomma, chi più ne ha più ne metta. E voi ragazzi, che cosa ne pensate? Volete acquistare il nuovo bot in emissione? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Tante volte mi avete detto, cerca di portarli prima possibile, così possiamo ordinarli se siamo interessati. Ho fatto del mio meglio, avrete qualche giorno di tempo per ordinarli se siete interessati. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima obbligazione. Ciao ragazzi!